Ancora uno scontro tra due auto questa mattina a Battipaglia. Due feriti rimasti coinvolti nell'impatto. I conducenti dei veicoli sono stati i soccorsi dei volontari del VOPI e poi trasferiti in ambulanza al vicino ospedale di Santa Maria della Speranza di Battipaglia e a Ruggi di Salerno. Giunti al pronto soccorso sono stati subito sottoposti a controlli ed esami radiografici. Per una dei due pazienti è stato accertato un trauma cranico e alcune fratture e per queste diagnosi è stato ricoverato a Ruggi di Salerno ed i medici si sono riservati la prognosi. L'altro invece è stato tenuto sotto osservazione a Santa Maria della Speranza dopo i vari esami per contusioni ed escoriazioni. L'incidente si è verificato in Litorano, in località Spineta. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dello scontro e per far defluire il traffico che si stava creando facendo svolgere agli automobilisti percorsi alternativi.